e poi che ci fate qui non lo sapete che mercoledì il video non esce più fino a settembre non siete abbastanza informati vi capisco siete nuovi molti di voi sono nuovi dovreste secondo me iscrivervi alla nostra pagina facebook dove vediamo delle notizie minuto per minuto poi c'è anche un account instagram per farci due risate insieme e se proprio volete parlare con noi telegram non so se lo usate sai adesso siamo arrivati fin qui abbiamo aperto il canale non ci fai vedere niente caffè che cosa volevo ringraziare tutti i nostri utenti storici il canale sta crescendo anche grazie a voi e volevo ringraziare soprattutto i nuovi iscritti di questa settimana grazie mille per aver scelto gioco con lo scemo molto presto cercheremo di premiare la vostra fedeltà in cuore dalla mia pausa caffè è tutto ci vediamo sabato non vi perdete il video di sabato perché è una bomba ciao 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 Grazie a tutti.